Che devo fare per prepararla? Niente, te la rompo. Pum, bloccato! Attenzione, blocca la mossa speciale! Wow! Ma guardate che! Quelli che stai in piedi! Oh! Quelli che... Konicewa, kouai, konicewa, arigatou, konicewa, kouai, konicewa... Ciao bambini! Ma ciao! Questo è Electric e sono con Electric. C'è sempre Peo e Topi tradotti in Peoese a quanto pare. Siamo di nuovo su Mario Tennis Ace e oggi vogliamo provare la modalità Swing. Che non sappiamo cosa sia se non che si spera... Si usino le mani per picchiare le palle. Tipo come... Giocabile con un solo Joy-Con. Abbiamo sbagliato tutto. Prendiamo indietro e facciamo quella vecchia. Facciamo un torneo. Oggi facciamo un torneo. Cambio di programma. Ma io non voglio giocare da solo. Cambio di programma. Cambio di programma sempre dobbiamo fare. Quindi non staccatevi troppo perché... Tanto lui vuole sempre cambiare il programma perché sono tutti i non giocatori. Facciamo un doppio. Io e te insieme. Comunque, il mio non preferito ma è forte... È il fantasmino piccolo. Che... Per schivare i colpi... Ah, io tolgo la sconfitta per KO. Perché non mi piace questa regola, ok? Cioè, ok. So chi fa parte del gioco. Però per oggi la tolgo. Perché se no facciamo come l'ultima volta che finiamo le partite. Subito. Electric Tobi fa i macelli, uccide le persone. Non lo so. No, uccido le racchette. Uccidi le racchette delle persone. Quindi anche le persone. E questa volta, chi proverò io? Io mi sa che vado con uno Yoshi. Vado con uno Yoshi perché... Se proprio non posso scegliere una donzella, mi scelgo un animaletto. Fortuna! Adesso, io certo che si poteva scegliere. Adesso comincerà la partita con... La squadra di Donkey Kong e la squadra di Yoshi. Oh, la palla! Beccati sta palla, hai capito? No, no, sei al posto tuo! Allora, Tobi vuole fare sempre tutto da solo e lo frega. No! Ma guardate che... Quello che sta lì dietro... Ma che fai? Come si parano quelli? Io ancora non ho capito. Oh, gli si parla normalmente. E basta? Sì. Pum! Tira in alto. Ehi, sì, ciao, i missili tiriamo allora. Due a uno per loro. In verità, anche noi dobbiamo farle. Che, tirare i missili? Sì. Va bene, adesso tiro i missili. Papu tira i missili, ti faccio vedere io come si tirano i missili, hai capito? Così che si tira. Bam! Uh, sbam! Ma che diavolo fa, Todd? Dei salti mortali. Questo è un missile, questo è un missile. Tirolo dall'altro lato, però. Bravo, così! Disguincio! Va a prendere il punto, distruggendo il mondo intero. Wow! Alla conquista del mondo a colpi di racchettate. Uh, alto, attenzione! Lo vuole fregare. Vai, è tua! Uh! Colpito in faccia. Gli rompe i denti a Todd, anche se non li aveva. Todd non ha i denti. In faccia. È un fungo! Mario! È un fungo, certo! I funghi non hanno i denti, eh? I funghi non hanno i denti, hai ragione. Si tuffa Todd, ma non ce la fa questa volta a salvare la situazione. Ma è diventato un po' più scherzo. È scherzissimo, adesso ci pensa Yoshi, guarda. La tira in alto, attenzione. Ehi! Ma tu la tiri! Wow! Cosa fanno? Cosa fanno? Uh, in mezzo ai due passa la pallina. Attenzione, electric topi. Ma anche il parato è una pallina. Electric topi, vicinissimo. Va a passare in mezzo ai due. Guardiamo il replay. Attenzione, Yoshi che corre senza senso. Non sa che fare, Yoshi. Attenzione. Beh, il lettore è la palla, eh? È mia la palla. Hai capito di chi è la palla? È... Oh! No, mostra speciale. Attenzione! Bowser Jr. Usa la mano gigante. Che prende la racchetta proprio così, piano piano. Pam! Wow! Wow, wow bella. Questo sarebbe stato K.O. Sarebbe stato K.O., ma... Non l'abbiamo messo K.O. Non l'abbiamo messo, per sicurezza. Perché così sarebbe più brutto. Esatto. È sempre mia la palla, se la vai, se la gioca. Attenzione. Attenzione Bowser Jr. È dove non dovrebbe essere, non lo so. Yoshi la tira in alto, lo vuole fregare. Eh, me la frega. Pam! Una ciambella. Oh! Yoshi, che fai Yoshi? Scusa, colpa mia. Ma come fai? Come fai a non giocare bene se... C'hai giocato da anni, anche quando eri piccolo? Eh, vabbè, me la per il Nintendo 64 che non so neanche tu se sai cosa diavolo sia. Ma cosa fa? Cosa fa? Fai il tuffo qui. Oh! La palla è infiammata. Attenzione! Electric Topi tra i due! Diswincio! Mamma mia, ma tu sei dieci volte più forte di me. Da solo non vincerei un ceppo. Dopo ne facciamo una. Io contro di te. Vediamo. Vincerò io. No, non cantare vittoria troppo in fretta. Adesso la facciamo subito. Modifica le regole. Singolo. Attenzione, sei pronto? Forse Electric Teo ha messo così perché vuole perdere. Come sfotte, attenzione. Ma io sai che faccio? Mi scelgo Rosalinda che è la più bella ed è anche la migliore. Quando si tratta di... No, no, ti sei preso però una cotta per una principessa, eh? È certo che c'è una cotta per Rosalinda. Lei è bellissima. Senti? Sei pronto? Adesso ti faccio il culetto a strisce, eh? Io ti faccio il culetto. Dopo non puoi andare a piangere dalla mamma, eh? E dopo te non puoi sconfiggere le mie battute con le mostre speciali. Sei pronto? Spero di sì. Pam! Te lo butto dall'altro lato e lo frega subito! Oh, attenzione! Scusate! Pum! 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 No! Rosalinda! Cosa fai, Rosalinda? Pum! Oh, attenzione! Cosa voleva fare? Ha fatto un macello da solo. No, volevo farti vedere come si fa il tuffo. Sì, sì, solo per quello. Come no? Becca qua, va! Stai attendo piuttosto. Guarda dove te la tiro. Guarda di là. Cosa fai, Rosalinda? Cosa fai, Rosalinda? Se ti cade... Sai che vuol dire Rosalinda? Vuol dire una rosa carina. Perché linda in spagnolo vuol dire quello. Pam! Uh, uh! 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 La tira alta, attenzione! E adesso la tira di là! Dove lui non può arrivare... No! No, 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 no! Attenzione! Oh, ma c'è speciale! Basta, 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 basta! Adesso questa la paro, la paro! No, si rompe la racchetta, se la pari! Se la paro al momento giusto, ce la faccio! Beh, io te la metto qua! Ma che... Fuori! Wow! No! Sì, invece, attenzione! Voleva sfottere, invece, va fuori! Pum! Pum! E questa? Questa chi la prende? L'hai presa tu! E questa? E questa chi la prende? Wow! Diswincio, attenzione, Rosalinda sta vincendo! Io prendo un'altra, eh! Ah, vuoi già la rivincita, anche se ancora non è finita? Dai, fatti sotto! Pum! Pum! Dai, rivolgo un'altra con un altro per strada! Pum! Ti tocca correre, eh! Guarda un po', destra-sinistra! Destra-sinistra! Attenzione! Sinistra-destra! E non ci arriva! Dici, voleva un tuffetto, eh! Ma non ti è riuscito! Pum! Guarda che te non sei nemmeno fai tuffi, eh! Però imparerò, imparerò! Pum! 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 Destra, attenzione! Oh, attenzione! Ah! Ah! No, no, no! La mossa speciale così non va bene! Che devo fare per pararla? Niente, te la rompo! Pum! Bloccato! Attenzione! Blocca! La mossa speciale! Wow! Questa non te l'aspettavi, eh! Che bloccava la mossa speciale! Poi la puoi fare anche te, eh! La potenza! Eccola qui! La mossa speciale! Di Rosalinda che va a portare a casa la vittoria! Puuu! Rosalinda! Vince il gioco e l'incontro! Cosa! Cosa! Pronto? Sì, pronto! Abbiamo bisogno di un'ambulanza per Electric Topic che, non credendo di aver perso, l'è preso un attacco al cuore! Sono stato bravo! Sto imparando! Adesso lui è arrabbiato però! Non si vede ma è arrabbiato! Bene, allora! Vediamo se anche la principessa pesca può farti le chiappette a strisce! Hai capito? No, lei non la farà mai! Io la catturo anche! Tu catturi le principesse pesche per farci cosa? Per farci sposare! Ah, giusto! Ha senso! Bowser si sposa! Bowser si sposa, ha senso! Ah, ce l'ho io e la palla! C'hai la palla, dai! Tira sta palla! Puu! No, Rosalinda! Aspetta! Non è Rosalinda, eh! È principessa pesca, come ti chiami? Dove la tiri quella palla, maledetto coso? Ma perché il campo non si fai a fare i suoi le piante, maledetti? Hai visto? Spero che tu sia pronto! Anche! Per la sconfitta! Micidiale! Oh! Sì! Diswincio! No, 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 no! No! No, quelle! Quelle maledette piante tirano dove cacchio vogliono loro! Ma non è giusto! Te devi guardare le versioni dove vanno le piante! Pum! Pum! Ah! Ah! 3 a 0! Perché? Perché? Ah! Visto? Te dici che sono scarsa e me sei! Non l'ho mai detto che sei scarsa! Sei tu che dici che il campo è scarsa! Uuuh! Uaah! Uuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! Ehi, dammela! Ehi, dammela! Ehi, dammela! Te l'ho detto, ho visto? Uuh! Ah! Buuuuuh! Ho fatto il tuffo! Attenzione! Ho fatto il tuffo! Non era il tuffo! Era la capriola! Ho fatto la capriola! no 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 dove la tiri dove la tiri no no questa la devo bloccare se la riblocco vuol dire che sono il numero uno sono il numero uno sono il numero uno troppo presto no è la rotta la racchetta mi ha spezzato la racchetta 4 a 0 che vergogna la vergogna del perdere così non posso fare questa figura attenzione attenzione dove l'asputa no no dove l'asputi dove l'asputi qui però che tu sia pronto per la mossa speciale la principessa pesca la principessa pesca mottese magna che faccio dire la guarda attenzione fuori tua madre fuori ho perso cambio campo praticamente perso cioè ormai ho perso anche le speranze no come te misti che fanno i versi il primo punto l'asputi e strillano è mai mai tu ma io sono partita vera di tagli strillano così a e lo so partita incontro bowser se lo porta a casa bravo 25 se è stato forte facciamo l'ultima per lo spareggio chi vince questa vince tu adesso e se facciamo in squadra bene nel campo desertico qui che cosa succede chi è chi si intromette in questo campo qualcuno bene perché quelle piante mi avevano un po rotto spero che tu sia pronto per la battuta della principessa pesca cosa fai cosa lui per chiamare la piccia lei la chiama pace principessa pace vai non si sfottono i nemici i tuoi sfidanti ma se le parti sono perché ovvio dio sono finito a terra quasi ma mese mi è buttato via c'è visto guarda sono finito lontano spero che tu sia pronto perché mi vado e non è pronto ok ok no dove la tene o meno male che lui fa la mostra speciale io posso bloccarla posso bloccarla posso farcela posso farcela posso farcela la rete cosa cosa il primo punto per un tuo errore pensate non ti vergogni ma non ti vergogni no principessa pace cosa fai ma fa la capriola non mi viene naturale fare le capriole non sono abituato mamma non mi ha insegnato a fare le capriole io sono bravo io invece sono bravo io ho fatto i salti poteri lo dovrei annunciare a fare la nota scalarina per alzina lain la nata diventata Questa la devo bloccare perché sennò è finita La vita è finita Per te è finita Pum! La blocca! La blocca! Però non ho fatto un vincere No, 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 principessa! Brava la principessa, mia principessa E poi fai le cartelle No Troppo bravo Ma dopo un blocco così Dopo che Papo fa i blocchi così La principessa Patch mi fa queste cose Attenzione, attenzione Attenzione, no, no! Sì, sì! E fu così che Papo perse tutto Bene, hai vinto tu? Proprio tutto, il video, la partita, tutto Papo lascia perdere questo gioco Mi allenerò, ok? Mi allenerò un po' e la prossima volta E ci rigiocheremo, ti faccio coletto a strisce, va bene? Ok Ma questo è quanto per questo video-olo Mi raccomando, mostrate un bel po' di cosa? Di un pollice in su Un po' di amore al pollice in su Ma soprattutto, vi dovete ricordare bene, chiaro chiaro Che avete appena visto Key Electric Con Electric Con Electric Adios! Cam penalista, no! 8,9,9,11,00 e! īpango 1,000,00 e! FORE Poi 35, Satan Kim penalista, il video ha studu, la partita, tutte. inhabitantsili amore al giro nych in Grazie.